Corsi di canoa, canottaggio, dragon boat e in linea con la migliore tradizione lagunare, voga alla Veneta. La Canottieri di Mestre, società sportiva con oltre 30 anni di attività alle spalle, punta sui giovani e sulla passione per gli esporti d'acqua delle nuove generazioni. Situata sulla sponda del parco di San Giuliano, lungo la cerniera che unisce la terraferma alla laguna, la Canottieri ha visto l'anno scorso la partecipazione ai corsi di ben 700 ragazzini di Mestre e quest'anno, prima di dare il via a marzo al nuovo ciclo di lezioni, invierà a tutte le scuole un DVD intitolato Il Gioco dei Remy. È affascinante perché tra le varie discipline si riscopre quello che è la laguna di Venezia e soprattutto la città di Venezia, lungo i canali, che è veramente affascinante, poter andare con le varie imbarcazioni, in particolar modo della voga alla Veneta, lungo i canali. In una città in cui ultimamente sembra che ci si pianga solo addosso, è anche questo un piccolo esempio che va forse in una direzione diversa, cioè di chi vuole valorizzare le cose specifiche della città. E sicuramente questa iniziativa porterà molti ragazzi a praticare la voga a Veneta. Anche se la Canottieri di Mestre vanta tra i suoi iscritti molti campioni italiani di canoa e canotaggio, lo spirito della società è quello di educare soprattutto i più piccoli al piacere dello sport senza intenti agonistici. Intanto però si sta anche lavorando per organizzare a maggio una competizione a livello nazionale. Verranno invitate dalle battane di Rovigno, alle lucie di Como, alle bisse del Garda e tutte quelle barche dove si vuole in piedi. Praticamente sarà un raduno di tutte le barche tradizionali d'epoca e dove ci dimenteranno in una prova a cronometro tra Mestre, Venezia e Mestre. Un'andata e ritorno partendo da Mestre e arrivando a Venezia e tornando indietro. Ogni barca farà la sua categoria, basta che ci siano due equipaggi iscritti e verrà